Un po' di maggiorano... Bellissimo! Io sono Roman e oggi farò un piatto italiano Risso! Al telefono! Andiamo! È una ricetta molto facile Abbiamo bisogno di Pomodori Risso Olio d'olivia Brodo vegetale E scalogno Ma non ho scalogno quindi userò Aglio e cipolle E anche formaggio e maggiorana Ora prepariamo la nostra salsa di pomodoro Vado ad usare l'acqua di stamattina con i pomodori e poi vado ad aggiungere brodo vegetale Aggiungiamo un po' di brodo vegetale al composto quando necessario Bellissimo! Ora aggiungiamo il risotto Il riso Ancora una volta aggiungiamo il brodo vegetale quando necessario Aggiungiamo un po' di sale E ora aggiungiamo un po' di sale Un po' di sale Per il sapore E poi Olio Ok, pronto! Normalmente dovrebbe essere come l'accordo di un telefono, ma non ho usato il formaggio giusto, quindi non è la stessa cosa come chi, ad esempio, ma proviamo! Bellissimo, delizioso, wow, davvero è la prima volta che ho preparato questo piatto e sono molto contento dei risultati, e allora cosa vorresti che provassi dopo? Lasciami sapere in i commentari, quindi se il video vi è piaciuto mettete mi piace, iscrivetevi, commentate e condividete il video, ciao ciao! Guarda come fila! Pronto? Chi è? Sono il risotto, possiamo impiattare! Non piudrai far faloni amoroso, notte e giorno di torno girano, delle belle torbando al riposo, narcisetto a dolcino d'amor, delle belle torbando al riposo, narcisetto a dolcino d'amor... Grazie! Grazie!